bene amici carissimi di youtube sono qui per spiegarvi il problema che ho con galaxy note 2 modello n7100 quindi vale a dire gtn7100 beh detto questo dopo avervi fatto vedere il dispositivo andiamo subito a vedere il problema anzi le varie problematiche che ho riscontrato allora eccovi qua come vi ho detto nell'altro prima video ecco i galaxy note 2 gtn7100 come prima cosa vado ad inserire il cavetto di ricarica e guardate subito il problema che mi da ecco qua il primo problema è che non mi legge la batteria quindi adesso non ho una batteria di ricambio altrimenti vi avrei fatto vedere la cosa che si ripeteva anche con una batteria nuova diciamo e che non mi legge la batteria non mi da il livello di ricarica e si blocca qui su questo logo quindi rimane la batteria grigia vuota con il cerchietto di caricamento senza nessun indicatore per quanto riguarda il livello di ricarica ma andiamo avanti adesso io lo avvio un attimino in download mode se ci riesco vi faccio vedere cosa succede ecco qua allora voglio farvi notare che faccio il computer un attimino più dietro che è connesso al computer adesso premo il pulsante un attimino che sistemi il computer così vedete meglio ecco qua premo il pulsante volume alto per entrare in download mode come potete vedere la fianco al computer non me lo riconosce in nessun modo anche questo è il secondo cavetto che vado a cambiare da premettere prima del video che anche se tolgo un cavetto ne metto un altro mi si ripresenta lo stesso problema ok detto questo vado avanti anzi prima di dire non mi riconosce nemmeno più l'hardware nemmeno la stringa magari non so dispositivo non riconosciuto nemmeno quella mi esce e come già vi ho detto su due versioni diverse di odin non mi riconosce il dispositivo ma c'è dell'altro andiamo avanti lo avvio in recovery stesso da qui mi ci mette un pochino ad avviarsi per il problema che ha impiega un pochino di tempo ad avviarsi la recovery però va come vedete è sempre collegato al computer il cavetto e non mi esce nessun tipo di decidura ecco qua la recovery si è avviata attendiamo qualche secondo e guardate cosa si presenta et voilà tutte le decidure in rosso che riguardano la memoria interna del telefono vedete mi da mount pilot ok ci siamo recovery si è avviata con tutte queste stringhe rosse inerente alla memoria ma ci sta dell'altro ora vi faccio subito vedere vi faccio anche i wipe impiegano un pochino ad andare alla recovery scusate alla schermata successiva ecco qua faccio delete all user data clicco per confermare vedete sotto formatting data insieme alla voce cache wipe cache e tutto il resto e si ripresenta il problema ma andiamo avanti andiamo su cache partition e mi da la stessa dicitura quindi già come ho pensato io è un problema legato all'hardware soprattutto per quanto riguarda la scheda madre però se qualcuno ha delle soluzioni me le può scrivere sotto al video magari se lo devo buttare e lo dica tranquillamente me lo dica e poi bene amici di youtube come avete visto nel video che vi ho indicato prima sia per quanto riguarda odin in download mode e la recovery infatti sono rimasto sulla schermata della recovery quindi scritte rosse che riguardano problemi legati all'hardware e per quanto riguarda la memoria soprattutto perché ci ho provato in molti metodi ho provato anche tramite adb ma nessuna nessun riconoscimento da parte del mio computer quindi se avete soluzioni se avete riscontrato questa problematica con il vostro Note 2 modello N7100 che ve lo voglio ricordare è la versione standard del Note 2 quindi per chi ha avuto questo problema magari volete aiutarmi voi con le vostre esperienze scrivetelo sotto nei commenti video così io sarò molto lieto di accogliere i vostri consigli magari se ci sarà da fare qualcosa lo facciamo e non mancheranno i ringraziamenti per chi mi aiuterà su questa cosa per youtube è tutto Raffaele Mauriello Raffaele Mauriello